Musica Cari telespettatori di Anterna Sud, ben ritrovati ed eccoci all'appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Questa la situazione generale di martedì 7 febbraio. Il basso versante adriatico è ancora raggiunto da attese correnti nord-orientali, richiamate da un vortice in azione in prossimità del basso Tirreno. E vediamo più nel dettaglio cosa riservano le previsioni per la Puglia. Sulla nostra regione cieli ancora molto nuvolosi o coperti con fenomeni sparsi sulla medio-alta Puglia e sul Brindisino, nevosi a bassa quota al piano ma con quota neve in risalita nel corso della serata da sud. Passiamo ora alla situazione prevista per Basilicata e Molise. Anche in Basilicata cieli ancora molto nuvolosi con precipitazioni sparse a nord, nevose anche a bassa quota. Fenomeni in assorbimento da sud nel corso del giorno, tranne che sul Molise ova invece si intensificheranno la notte. E per concludere la situazione di temperature, venti e mari. Temperature in ulteriore calo nei minimi, stabili o in lieve rialzo nei massimi. Venti tesi da nord-est ma rimossi fino a molto mossi i bacini esposti. Per ora con le nostre previsioni è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio in compagnia dei programmi di Altena Sud. Buon proseguimento.